ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un unboxing e allora era già un po di tempo che non facevo uno di questi unboxing alla ricerca di un orologio un po economico entry level più che economico insomma quegli orologi che vanno dai 100 200 300 400 dai fino a 400 diciamo alla scoperta di un orologio magari per tutte le tasche no che può piacere alla maggior parte delle persone con pochi soldi si possa ottenere un orologio dalle caratteristiche diciamo anche se la scheda tecnica non è che sia l'unica cosa che deve importarci insomma un orologio dalle caratteristiche decenti dall'aspetto bello portabile insomma la portata di tutti ecco questa è un po la mia ricerca che ogni tanto faccio e che adesso avevo lasciato un po indietro ma che ora riprendo riprendo perché ho accumulato un po di punti buoni amazon quindi ho deciso di spenderli prendendo questo orologio appunto su quella piattaforma lì orologio che poi magari rivenderò come usato a qualcuno perché non è che posso tenere tutti gli orologi in collezione ma proprio per vedere per testare studiare guardare provare qualche novità qualche orologio che non ho mai avuto per le mani e questa è l'occasione buona quindi voi sapete già che io faccio solitamente l'unboxing che voi lo vedete ora poi utilizzo l'orologio per qualche settimana e poi faccio la video recensione la panoramica la panoramica dell'orologio che voi però vedrete tutta di seguito cioè in un secondo tempo no ci sarà anche il cecchini del passato che sono ora mentre quello del futuro è quello che vedrete subito dopo no cecchini del futuro cecchini del passato però in entrambi i casi tutti i due cecchini avranno sempre la scimmietta sulla spalla quindi lo riconoscete da quello detto questo che facciamo l'unboxing passiamo l'unboxing del simpaticissimo oppure volete vedere l'orologio del giorno eccolo qua ve lo faccio vedere di così stavolta è un simpatico calamai orologi calamai l'mc 72 il mio simpatico orologio da tutti i giorni con la bag interna doppia corona simpaticamente col cinturino nato single pass e questo qua ci piace tanto adesso prendiamo simpaticamente anche il super coltello lo vedete che un bel super coltello e iniziamo con l'unboxing da qualche parte si inizierà io direi di iniziare da qua asmr ci siamo scatolina dentro eccola qua simpatica scatolina vediamo un pochino qua come siamo messi siamo messi così scatola anzi contro scatola scatola all'interno ci sono tutte le cosine che ci devono essere ci sono apriamo si vede già un diapason qua un diapason ebbene sì perché si tratta del simpatico il simpaticissimo bulova surveyor c'è la card c'è la card c'è la card la card 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 garanzia scontrino scontrino libretto delle istruzioni che non ci serve assolutamente e qui all'interno c'è l'orologio scatola qua chiaramente questo il prezzo di listino è 329 ma io l'ho pagato l'ho semplicemente pagato 280 e qualcosa mi sembra 280 e qualcosa e secondo me può essere un buon a chiappo ricordatevi questo bellissimo prezzo 280 euro scontato c'è la pellicola qua no mi sembra sotto sotto c'è la pellicola togliamo la pellicola guardiamo che calico o bulova surveyor automatico dovrebbe essere un 39 mm eccolo qua la forma è questa qua forma cassa particolare leggerissimamente geometrica spigolosa e l'ho preso perché potrebbe essere un everyday watch veramente interessante un 39 mm calibro miota e colori calibro miota non so se si vede ma tanto dopo ci sarà la recensione perfetta corona a pressione lente magnificatrice non è nemmeno non è nemmeno troppo spesso dai ragazzi quasi completamente lucido chiusura farfalla bracciale con sgancio rapido questa è tanta roba sgancio rapido o per la o per la sgancio rapido tac e tac rimesso ottimo quindi ci posso mettere anche un cinturino al volo volendo quadrante blu calibro 8000 bello mi sembra che sia tutto drittissimo guardiamo come sta il polso guardiamo come sta il polso mi trovo che cala mai bracciale larghissimo è il bracciale larghissimo è al polso si piazza così in questo momento così bracciale un po larghino facciamo lo stringiamo facciamo finta di sia stretto eccolo qua questo qua è l'orologio come sta al polso dai diciamo che come come l'orologio al polso fa la sua bella figura ricorda un pochino magari gentleman come stile è un day just che ne so completamente differente case tutto è però come stile potrebbe essere un legante sportivo da tutti i giorni io un punto debole un limite di questo orologio già lo conosco perché quando l'ho preso l'ho preso sapendo di quel punto debole che poi spiegheremo però per il resto ci siamo diciamo che finisce qua l'unboxing finisce qua ragazzi l'unboxing finisce qua adesso voi vedrete direttamente la video recensione la panoramica dell'orologio e poi con le conclusioni finali come al solito quindi giriamo la camera diamo uno sguardo alla video recensione di questo simpatico orologio e poi ci ritroviamo qui per le considerazioni finali snoccioliamo come da consuetudine le misure relative al simpatico orologio diametro cassa 39 mm spessore 11.9 ingombro trasversale al polso 46 mm e interasseanza da 20 mm oserei dire misure perfette per qualsiasi polso specie se riferite ad un orologio sportivo e classico allo stesso tempo sì perché è uno di quei segnatempo che può essere inserito con le dovute proporzioni in quella categoria che comprende il tisso gentleman rolex digest e l'onjin conquest ultimo modello una tipologia di orologio da utilizzare in qualsiasi ambito e con qualsiasi tipo di outfit dalla sua ha però il fatto che si discosta particolarmente dai design sopra citati o perlomeno è di sicuro per la concezione della cassa si tratta di linee particolarmente spigolose e scolpite quello che in ogni orologio sarebbe un bisello di separazione qui prende la forma di una più ampia superficie che si interseca con i tre segmenti frastagliati della carour laterale il tutto confermato dalla modalità prevista per terminare le anse un taglio netto svasato verso la parte posteriore ciò che invece non varia è la finitura generale ogni singola superficie appare come lucidata a specchio e questo non agevola di certo la percezione del contrasto tra le varie inclinazioni chiaramente la medesima sfaccettatura è presente sul lato corona che per l'estrazione prevede un semplice sistema scatto occorre però dire che è leggermente incassata sul lato carour in modo da avere un minimo di protezione all'oscillazione laterale in sintesi un insieme di apprezzabili sfaccettature che però rende al meglio proprio grazie allo spessore esiguo del corpo cassa è sempre difficile trovare orologi con il miota 8000 al di sotto dei 12 mm e qui ci siamo visto che lo abbiamo citato diamo lo sguardo veloce appunto al movimento per la precisione si tratta del basico 82 15 che in questo caso ha sia la carica manuale opzionale che il fermo macchina a corona estratta non sono caratteristiche fondamentali ma quando si parla del miota 8000 è sempre bene specificare se sono presenti o meno non sono tutti uguali c'è ben poco da aggiungere meccanismo straconosciuto economico entry level è privo di decorazioni di sorta diciamo che se non altro fa il suo da sottolineare che è a vista ma almeno dati 39 mm di diametro cassa l'effetto blow è scongiurato è comunque il caso di ruotarlo e tornare a guardare il lato a se la cassa ci concede una interpretazione originale lo stesso non si può dire per gli altri elementi presenti a cominciare dalla classica lunetta lucida sportiva e classicheggiante per arrivare al quadrante semplice canonico e rassicurante d'altronde così deve essere un orologio di questo tipo rimanere dentro il coro e fare del suo meglio senza urlare la nota più acuta la emana il quadrante un blu metallizzato a finitura soleil che mette in mostra i riflessi di luce generati da quella lavorazione a solchi radiali che abbiamo imparato ad apprezzare una finitura tanto pregevole quanto solitamente prodroma ad un'eventuale scarsa leggibilità ma non è questo il caso in quanto sia gli indici che le sfere ci appaiono sufficientemente visibili i primi sono in acciaio rodeato e la conformazione a cuneo fa sì che da ogni angolazione si riesca a distinguere uno dei due spioventi dell'indice stesso mentre le sfere anch'esse lucide presentano un'anima centrale in pigmento luminescente il tutto condito dall'evidente profondità del quadrante dovuta allo spessore degli indici applicati e dal bel logo a forma di diapason posizionato ad ore 12 in un primo momento mi sono rammaricato della semplicità della scritta bulova poi ho convenuto che se l'avete essero realizzata in rilievo avrebbero appesantito un po troppo l'aspetto lascio a voi il giudizio finale ho lasciato per ultima la lente magnificatrice croce e delizia per molti appassionati a livello funzionale riesce a svolgere il proprio compito a livello estetico può piacere o meno personalmente non la ritengo un minus e la accetto senza problemi in assenza di luce è poi possibile distinguere le due lancette e di conseguenza avere un colpo d'occhio efficace sull'orario vista la tipologia di rollo doggio ritengo sia più che soddisfacente in ultima analisi diamo lo sguardo al bracciale buona la fattura generale che vede un design a tre segmenti indipendenti la differenza di finitura tra quello lucido centrale e i due esterni non è così marcata soprattutto dal vivo non si percepisce una grande differenza se vogliamo parlare poi della consistenza generale direi che si tratta di un bracciale ben dimensionato con i finali in solido acciaio e con le spring bars a sgancio rapido che sono sempre una comodità in più segnalo infine la chiusura farfalla elegante compatta e ideale per la tipologia ma che porta con sé il fastidio di dover regolare la lunghezza del bracciale solamente rimuovendo le maglie eccoci qua con il simpatico orologio da iniziamo con i limiti con i punti deboli con gli impedimenti con le considerazioni negative e iniziamo da quelle tanto i tre bar di impermeabilità 30 metri sono veramente pochi ragazzi io non credo neppure di avere un orologio con tre bar di impermeabilità al minimo ce li ho a cinque se non mi sbaglio e chiaramente è ermetico cioè quelle situazioni acquatiche nelle quali ti lavi le mani o piove o uno schizzo d'acqua non gli danno nessun fastidio probabilmente neppure a immergerlo aneddoto una mia amica al mare indossa il casio quello dorato il classico casio digitale da 15 euro che si comprano dappertutto ma andiamo a fare il bagno e io mi salgo in cattedra e incomincio a fargli tutto il discorso ma con quell'orologio lì con tre atmosfere anzi non so nemmeno water resistant e non si può fare il bagno perché ma io sono cinque anni che ci faccio il bagno con questo orologio e lì me ne sono stato zitto mi sono cronate tutte le certezze della chi era girevole della valvola per l'elio del fondello avvitato tu fa mare si butta fa il bagno con quel caso di cinque anni che ci fa il bagno quindi a volte ci facciamo un po delle pippe mentali però era giusto è giusto dire che tre atmosfere sono poche cioè io non ce lo farei il bagno con questo orologio non ce lo farei il bagno con tre atmosfere come detto per le altre situazioni va benissimo secondo me sono poche così è così poco impermeabile perché hanno voluto fare un orologio sottile 11.9 che quel mio 8000 sono veramente pochi 11.9 quindi le pareti della cassa al fondello probabilmente sono veramente anche le guarnizioni anche l'alfiletto d'avvitamento credo siano poco poco consistenti quindi hanno preferito fare un orologio sottile che ci sta con poca impermeabilità secondo me è così comunque ve l'ho segnalato poi altri punti deboli come sono le superfici lucide è tutto lucido questo orologio voi avete visto un bracciale che sembra bello satinato di lato ma dal vivo è veramente poco riconoscibile la differenza tra lucido e satinato di laterale la cassa è lucida ma è quel lucido un pochino cheap diciamolo così non voglio essere cattivo perché è un bello orologio è un po cheap un po che si vede che è fatto per coprire e non aver voglia di fare delle satinature o qualcosa di più ricercato insomma attirata al risparmio tutto lucido ma ve lo dovevo dire poi ci sarebbe il calibro che come punto debole ma è un entry level in comune tantissimi altri altri orologi e per il livello di prezzo che va benissimo però vava detto che il calibro è entry level così come la chiusura farfalla che non è un punto debole di questo orologio ma di tutti quelli che hanno la chiusura farfalla che la regolazione alla fine la devi fare con le maglie togliere le maglie mettere le maglie dare la cera togliere la cera così funziona così poi per il resto è un orologio che la qualità generale è buona no io magari calco un po la mano che si appunti deboli per farvi capire la qualità generale è buona è un bello orologio l'indossabilità è ottima 39 mm meno di 12 di spessore 46 di lag to lag ma è il classico sporti chic orologio nella categoria come ho detto del non ginko che si moderno del anche dello spirito del gentleman che sono di altro livello dati su però lo stile quello lì con una certa originalità in quanto la casa della casa è veramente particolare unico cioè non è che assomiglia a qualcun altro diciamo la verità è quadrantino magari al centro che è comune ad altri però poi anche le caratteristiche tecniche vetro zaffero pic di pic di pic spedding bars a sgancio rapido schlop 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 è un quadrante che c'è un orologio che vale i soldi che costa meno di 300 euro scontato 329 di listino vogliamo giocare sull'estino 329 di listino e li vale sì rival ho detto questo ci sono diverse versioni di questo orologio diversi quadranti cinturini io volevo quasi quasi prendere quello con il quadrante tobacco tabacco che mi ricorda quell'oriente che avevo scoperto anni fa che poi era bellissima è andato via a ruba non si trova più quindi volevo prendere quello tobacco ma c'è un punto che mi ha impedito proprio di prenderlo perché c'è è tutto in acciaio quadrante tabacco bello lì così e poi c'è la corona dorata l'unico punto dorato di tutto l'orologio la corona lasciato lì per me diventa un impedimento all'acquisto non l'ho portato preferito portare questo qua tutto acciaio anche se quadrante blu è un pochino più anonimo rispetto a quello tobacco però ragazzi poi io ho finito io ve l'ho fatto vedere no come diceva rocco si fede si freddi io ve l'ho fatto vedere e voi decidete poi se vi piace o se non vi piace non è che posso fare tutto io ragazzi io devo andare a vedere i gattini su instagram la scimmia qua vuole vedere i gattini oggi ha detto che voleva vedere i gattini e noi andiamo a vedere i gattini io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto l'orologio tutto l'ambaradan e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love